12 storie, 12 racconti con un unico comune denominatore, la vicinanza dei carabinieri alla popolazione. Sono quelle inserite nel calendario storico di 2024 dell'Arma e ogni storia racconta vicende intense. 12 racconti, 12 momenti di vita quotidiana che i carabinieri hanno vissuto nel territorio sia italiano che estero. 12 momenti che rappresentano però sempre la vicinanza al cittadino. Si parla del maresciallo che porta la pensione al vecchietto durante il periodo del Covid, si parla dei militari che soccorrono la popolazione nell'Emilia Romagna durante le alluvioni, fino ad arrivare però anche ai martiri di Fiesole, quindi tre ragazzi, di cui due di questa zona, che vanno consapevoli davanti al protone di esecuzione però sapendo di salvare dieci vittime, dieci persone innocenti. Il contributo importante di una pena, importante come quella di Massimo Gramellini, lo stile di Pinin Farina, un calendario quest'anno che davvero ha raggiunto vette importanti. Sì, è un connubio bellissimo, io mi sono commosso nel leggere le 12 storie e vedere poi i disegni di Pinin Farina è bello. Il connubio che lega tutte e 12 le tavole al rosso, il rosso che rappresenta la banda dei carabinieri, quindi la banda dei pantaloni dei carabinieri, quindi questo rosso che unisce tutte le 12 tavole e le storie sono davvero bellissime. Grazie a tutti.